Con contempo, quando è marcato il 3-0 uomo per Roma in Vita, l'altura è che stava a cominciare, è qui a paglia di Banderola, una volta che si rinocca, un po' di Vita in marcia, guarda, al contrario, è marcato il 3-0 uomo, questo è il 26-8 minuti di gioco, Giannis, passato il 3-0 uomo per Roma in Vita, al si imprita il 3-0 uomo!